Ciao a tutti! Mi è successa una cosa strana che voglio subito condividere con voi. Giorni fa una signora è venuta a fare una consulenza con me e mi raccontava di come lei creda nelle cose naturali, le segua e stia bene, ma in famiglia e i colleghi nessuno la segue, nessuno le crede, nessuno le dà importanza e valore e lei si sentiva molto frustrata. Mi ha detto forse ho una personalità debole senza carisma, cosa posso fare? E fin qui tutto normale. La cosa strana è stata che mi ha chiesto di fare un video su come rafforzare la personalità. Interessa anche a me cosa c'è di strano. La cosa strana è che mi aveva di fronte in carne e ossa e invece di chiedermi direttamente come fare mi ha chiesto di fare un video. Non è strano? No, l'avrei fatto anch'io così uno può riguardarselo ogni volta che vuole, no? Ah beh, così va bene. Io pensavo che mi considerasse più virtuale che reale e per me sarebbe un po' strano a dire la verità. Comunque. In ogni caso, care amiche e cari amici, avete sempre pensato di essere nati con una vostra personalità, magari debole, e di dovervela tenere? Ovviamente sì, e quando non mi piaccio io mi dico sempre, sono fatta così. Beh, contrariamente a quanto si pensa, la personalità non solo può migliorare, ma può anche evolversi in un modo che non possiamo neanche immaginare. Volete sapere come si fa ad avere una personalità forte, con carisma, capace di ispirare e attirare gli altri, di emanare fascino? Sì, è una delle cose che voglio sapere di più. Allora c'è una parola chiave importantissima a questo proposito. Volete sapere qual è? Sì, vorrei saperlo, grazie, sono qui per questo. È una parola fuori moda, ma io la dico lo stesso. È carattere. Il carisma, la capacità di attirare gli altri, di essere forti, avere una personalità impattante, dipende dal carattere. Vi è mai capitato di avere vicino una persona magari non proprio bella di aspetto, anzi brutta, ma proprio brutta, ma con un carattere positivo, leggero, spiritoso? Sono sicura che non solo la sua bruttezza è passata in secondo piano, ma è diventata addirittura bella, una persona piacevole, con un carisma che attira gli altri e li fa stare bene. Allora, come sviluppare un carattere che porta ad avere una personalità piacevole che attira gli altri? Ecco i miei cinque consigli infallibili. Ricordate, il carattere si può plasmare come tutto nella vita, si esercita e si migliora per crescere. A proposito, per aiutarmi a fare crescere il mio canale, che poi è anche vostro, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Bene, ecco i cinque passaggi per sviluppare ed esprimere una forte e straordinaria personalità. Uno, una personalità forte ha sempre una propria opinione, una posizione definita nei confronti delle cose e delle situazioni. Ma io ce l'ho un'opinione, infatti in televisione hanno detto che propria, un'opinione propria non copiata dalla televisione o dalle riviste. Avere un punto di vista personale e originale sulle cose è la cosa migliore per avere conversazioni interessanti ed essere percepiti come persone con una forte personalità e piacevoli da frequentare. Attenzione però, i gigino so tutto non piacciono a nessuno. Due, una personalità forte ha un'attitudine e una visione sempre positiva. La positività è forza, nessuno vuole stare vicino a persone negative che non fanno altro che lamentarsi e criticare tutto e tutti. Solo altre persone negative lo vogliono. Io quando vedo avvicinarsi quelle persone scappo di corsa proprio. Ecco, appunto, per trasmettere carisma e ispirare gli altri, iniziate a essere positivi, a sorridere, a sostenere le persone. Siate quelli che illuminano una stanza quando entrano. Tre, una personalità forte ha il senso dell'umorismo. Quando tu fai le scenette, esatto. Trovare il lato spiritoso e divertente della vita trasmette sicurezza e anche leggerezza e gioia di vivere. Una persona con un buon senso dell'umorismo ha più chance di costruire relazioni positive. Quattro, una personalità forte fa il tifo per gli altri. Incoraggiate le altre persone per quello che fanno, sostenetele, spronatele a fare del loro meglio e poi riconoscete le cose buone che fanno e date valore alle loro qualità. Così saranno in molti a seguirvi. Forza Simona, continua a fare video che ispirano. E tu che guardi, iscriviti al canale. E cinque, una personalità forte e attraente è coerente e vive nel rispetto degli altri. Scusa, ma cosa c'entra questo con essere attraenti? Facile, una persona che mostra rispetto per sé e per gli altri e mostra integrità e coerenza comunica agli altri e ai possibili interessati che riceveranno anche loro lo stesso trattamento e che dovranno ricambiare. Così attirerete direttamente persone positive che cercano relazioni sane basate sul rispetto reciproco. Insomma, inserite questi cinque ingredienti nel menù della vostra personalità e vedrete che ne uscirà una ricetta buonissima e irresistibile per voi e per gli altri. E se nei vostri discorsi affrontate l'argomento carisma, fascino e personalità, parlate di questo video e fatelo vedere. Sarete di aiuto ad altri e dimostrerete di avere un buon carattere. Anzi, condividete subito questo video e iscrivetevi al mio canale per tanti altri consigli su salute naturale e crescita personale che stanno bene insieme. È facile, è facilissimo, basta un clic così e attivate le notifiche. Bene, per oggi vi ho detto tutto, ma vi aspetto presto sempre qui sul canale Naturalmente. Ciao! Grazie!